Musica Seid wieder volkente afti zimbar Erde. Hefparo redante von Treffen, boda seis ingehaltet atz labrou atz nöne von Abreil. Aromai alle Bissan unerein von Bolf boda lebet at unzer Khoachebene. Stührt könne che dar Bolf heilzotage king genützt als spott zu zu aga unzerne perno. De fatte so in da umar ploas video, die mehraschen gemacht pin hont Telefon, boda zohan im Bolf aus Bissan, aus Baben, wo dach hoache Ebene. Asper bar Bissan alle, dar Dokumentationszentrum Luzern, hat offergeton di stagion pittner schümmer auslegung a ten Bolf. Conosciamo il lupo, a so ista kengehoas dar Treffen, boda seis gehaltet da vorgonate boch atz labrou. Da ista kengeredet von Bolf, bia disa vleischvressaris bidar zuarchent zu leba in unserne bildar, und von Rechten, boda schützend ditsa vich. Sparirad soin, che dar Bolf is zuarchent, wo rals gebildt, boda haut e serta mera. In Treffen soin da kent ingeladet, dar accessor Michele Dalla Piccola und da Claudio Groff, von dianscht, von Beldarum Vicher, wo da Provinz votria. Lupo in Trentino, problem controverso, come il tema dei grandi carnivori in senso generale, laddove però l'orso è stato importato, il lupo invece è arrivato, è una realtà e adesso si tratta. Lupo in Trentino, problema controverso come il tema dei grandi carnivori in senso generale, laddove però l'orso è stato importato, il lupo invece è arrivato, è una realtà e adesso al Trentino tocca gestirlo. La provincia si trova in una condizione di disagio dovuto al fatto che c'è una parte della popolazione molto importante che ama la sua presenza e una parte della popolazione, gli operatori zootecnici in particolare, che la vedono come un vero e proprio flagello. La necessità di individuare una forma intermedia che sia capace comunque di salvaguardare la specie, ma di far sì che anche questa specie che ritorna sia adatti al nostro sistema di montagna antropizzata, è una sfida che ha di là ancora da venire. Il Trentino, rispetto alle migliori pratiche di natura europea, è comunque uno tra i più buoni interpreti, così come certificano studi internazionali, ma non considera concluso il suo percorso, in particolare politico, di gestione e di presenza di questo animale sul territorio. Serate come questa servono per informare innanzitutto la popolazione dei limiti che la politica ha, delle sue possibilità e però di che cosa può fare l'amministrazione per aiutare questa difficile convivenza. La prevenzione è estremamente importante, naturalmente può ridurre i danni ma non eliminarli del tutto, questo deve essere chiaro. Ovunque ci sono lupi in Europa ci sono dei danni, anche se possono essere ridotti. La provincia su questo sta lavorando in modo importante perché non c'è un piano nazionale, che come è noto sul lupo, che come è noto è fermo per motivi diversi, e quindi sta lavorando a un programma provinciale specifico sulla prevenzione dei danni da lupo. con l'aiuto anche di un consulente esperto in lupi, perché in provincia l'esperienza su lupi la stiamo facendo adesso, si sta cercando di mettere in piedi un progetto che è molto concreto e che sarà finito entro la fine di quest'anno per evidenziare, per mettere in luce quali sono le metodologie migliori per ridurre l'impatto di questo carnivore sulle bestiame d'allevamento, sia ovicaprini che bovini. In Vorgona Tementa, azz serza nevon April, da gecennate Ratloaf Tour of the Alps, is durchgeloft azz Lavrou un azz Volgraito. In Vorgona Tementa, in Vorgona Tementa, si sta cercando di Nidra Arco, si sta cercando di Andalo, Tria e Sherada, e si è riuscita azz Volgraito. Si sta cercando di la prima Vorgona Tementa, in cui si è avvicinato in un'attività, in cui si è avvicinato il gruppo blu, in cui si è avvicinato in tutto il mondo. In questo gruppo, in cui si è avvicinato, si è avvicinato in Israele e in Barreno. Si è avvicinato fino al 22 April, Piterlecht Loaf Tour, Rathenberg, Innsbruck. Si è avvicinato fino al Trentino, su Tirol e Nord, Tirol. La manifestazione che si è avvicinato in Vorgona è coinvolgita per tre sport. Il sport Loaf Tour è avvicinato a Zlavrou e a Sgonzo Gheriva in Alpe di Pampeago Fiedme. Il sport è avvicinato più di politica e di borsa. Questa manifestazione, in effetti, si è avvicinato alla grande regione di Tirol. In questo gruppo Loaf Tour, Arco Volgrat, si è avvicinato con il Spagnolo Pello Bilbao, dove si è avvicinato a Pellar con il suo cielo di team Luis Leon Sanchez, con l'epidio di team Astana, con il terzo del colombiano Ivan Sousa di team Androni-Siedermarco. In questo gruppo Loaf Tour, la grande Alpe di Pampeago Fiedme ha visto prima il colombiano Miguel Angel López e Team Astana. A Pellarco A Pellarco A Pellarco A Pellarco A Pellarco Dopodiché i giorni, a tutti i giorni, o a tutti i giorni fino a 10 maggio. Ci sono informazioni. Se i giorni fino a 31 maggio si scrivono i giorni, in un giorno, dove i giorni sono. Iniziamo a tutti i giorni. Info su www.altipianicimbri.it o su www.altipianicimbri.it e il numero 0 via 6 via 7 via 8 via 7 via 0. Ottimo! Se ne metto all'impresa l'impresa del 2018 è il momento fino al 27 avril. Si tratta il nostro scritto al pubblico, all'Institut Luzerno. Si tratta di un anno e di un giorno. A presto! 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 e ora in Kulturoinstituto Luzern 0464 789 645. Un'alle soin' ingeladet ad un bidrum ad Luzern, di manifestazione, voda se Bart halten ad Luzern, ad Erste, Zweite und Dritte, voprachand Sugno. Musica, Kultur und Gewalta. Drei tann, bo lustige Momente, alle pittnonda. Drei tann, bo lustige Momente, vodar Welt. In die bochen, voda kämen, Barparas Ren, vodals Dizza. Und in die bochen, voda kind, Barparas Ren, vod etnografisch Festival, vodas eis gehaltet ad vierzane vod April, a Chamichel, und vodais gebest o unsar Zimbar-Coral. Und vod isa boch i Sal, san Gruas, vod Matteo vor Castellet. Unidban. Plus ha, vodan mi ear. Plus ha, vodan. Unidban. Unidban. Trades. Uma, vodan. Mediarm, vodan. Vodan.